Per chi lavori? Sempre per lo stesso padrone, me stesso. E tu? Cosa che vuoi? Restare in Italia con il ruolo che mi compete, affiancarti nell'affare. Ti metto a disposizione la mia testa e quello che resta delle mie banche. In cambio voglio il 10%. Ma tu sei pazzo! Il 10%! Ma forse tu non ti rendi conto di che cifre stiamo trattando. A Londra avevo un professore di letteratura che ci obbligava a studiare a memoria 300 versi al giorno. Lo so, diceva, è ingiusto. Ma la vita non è giusta e pretenderà da voi cose impossibili. Il mio dovere è prepararvi a sopportarle. Tu invece devi aver avuto dei professori che non ti hanno aiutato a capire come va il mondo. Quando si intrappola come sei tu in questo momento non serve a niente gridare. Non sapevo.